si se tutti quanti si buttassero il dito a culo tante cose brutte non succederebbero e voi immaginate se per esempio uno sta per sparare una persona e si butti il dito a culo a quell'attimo di piacere e non spara la persona oppure mentre uno sta in macchina si ferma sul bordo stradale si butta il dito a culo e non fa l'incidente tante cose non potrebbero succedere anche durante la guerra si sparano l'attimo sfuggente si butta il dito a culo io sono un aura